Operazione antiabusivismo della municipale a Scampia, dopo l'abbattimento delle villette costruite illegalmente a pianura, prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per il ripristino della legalità sul territorio. Questa volta nel mirino degli uomini del generale Sementa ci sono i complessi residenziali di via Labriola, via Verbano, via Gobetti e via Ghisleri a Scampia, alloggi di proprietà del comune destinati ad ospitare gli inquilini delle vele abbattute. 170 agenti della polizia locale sono intervenuti con 70 mezzi per controllare le assegnazioni degli immobili comunali a seguito delle segnalazioni pervenute all'assessorato alla legalità di Giuseppe Narducci. E su circa 500 famiglie censite sono una ventina gli abusi registrati e numerose le verifiche ancora in corso per fondati sospetti di occupazioni illegittime. Un'operazione dovuta l'ha definita l'assessore Narducci che ha preso parte ai controlli per garantire il diritto alla casa e alla dignità a chi ne ha i titoli. Il blitz di Scampia fa da preludio ad una serie di controlli che proseguiranno nelle quattro vele ancora in piedi e mira a scardinare un giro di affari gestito dalla criminalità organizzata che stando alle notizie fornite dalla municipale per ogni appartamento va dai 10.000 ai 70.000 euro.